ciao a tutti come va spero bene oggi vi mostro come fare un hummus al sapore di cheesecake alla vaniglia iniziamo ovviamente per fare l'hummus ci vorrà il nostro piccolo robot da cucina ci mettiamo dentro 100 grammi di ceci secchi oppure un barattolo di ceci quindi più o meno 200 220 grammi 60 grammi di burro d'alachidi 60 grammi di sciroppo di latte oppure potete usare anche lo sciroppo d'acero e per dare quel sapore di vaniglia io uso 15 grammi di proteine in polvere e queste qui sono della vivo life che ve le consiglio assolutamente perché sono fantastiche e poi 70 millilitri di acqua e adesso non ci rimane altro che chiuderlo e azionarlo ed eccolo qua bello vellutato e pronto per essere spalmato sul pane o ovunque vogliate guardate qua sembra quasi un gelato non ci ho provato però secondo me se lo mettete in freezer e lo fate tipo gelato potrebbe essere molto buono in futuro ci proverò e vi farò sapere però per adesso questo si mangia così perché vi assicuro che è molto buono quindi provate a farlo anche voi e sappiate mi dire intanto noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao iscriviti al canale